è l'alba buia di un giorno di febbraio un uomo cammina per le strade deserte tutto è vuoto e silenzioso è un attore è stato in casa in quarantena artistica ha staccato il telefono si è precluso al mondo da solo allo specchio ha studiato il suo personaggio non ha sentito né visto nessuno per 40 giorni non i colleghi non il regista oggi è il giorno della prima sa di essere il più pronto il più preparato vuole essere il primo ad arrivare a teatro siamo con lillo venezia che è l'autore dell'estratto che abbiamo mandato in onda in questo servizio dopo ascolteremo anche le tue compagne sogna soro e verdiana bono e lillo niente raccontaci un po cos'è via di fuga allora intanto salve a tutti via di fuga è un modo per per raccontare questa questa clausura forzata a cui siamo stati sottoposti per giuste ragioni ed è un modo per esprimere la nostra solidarietà tutto il mondo del teatro e nel caso specifico del mio video in particolare la categoria degli attori che in questo periodo soffre particolarmente perché non ha la cosa di cui ha più bisogno ovvero il suo pubblico e com'è nato questo progetto questo progetto è nato sotto la guida di riccardo frati all'interno del suo corso di narrazione video presso la scuola iolanda gazzaro di emilia romagna teatro nello specifico il corso che stiamo facendo noi ovvero quello di perfezionamento di dramaturga internazionale e originariamente dovevano essere dei racconti delle mini feature documentarie a proposito del a tema degli autori e del festival vie che poi purtroppo non si è potuto svolgere per intero anzi solo pochi spettacoli sono andati in scena e l'idea di riccardo secondo me molto molto buona è stata quella di riconvertire queste 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 pulsioni che avevamo elaborato per il festival e riadattarle alla situazione attuale della del lockdown quindi nasce così quindi avete fatto dei video racconti che di cosa trattano in linea generale linea generale sono le nostre individuali esperienze di questo momento di di chiusura all'interno delle mura domestiche ognuno di noi ha pensato sul sul filo conduttore che fosse il tema dell'evasione quella che fosse la propria esperienza insomma come privatamente individualmente abbiamo abbiamo riflettuto su questo su questo momento e quali potessero essere queste vie di fuga per noi verdiana abbiamo parlato anche con sonia soro e lillo venezia e i tuoi compagni e come loro vorrei chiederti cos'è per te in particolar modo vie di fuga il progetto che avete pensato e realizzato allora noi avremmo dovuto realizzare delle vie non delle vie di fuga per per il festival che però è stato annullato come come sappiamo ahimè e quindi via di fuga è diventata un po la possibilità di di far sentire la nostra voce la nostra la nostra la nostra scontentezza rispetto rispetto a questa disattenzione che c'è stata nei confronti dello spettacolo e poter immaginare come come uscire se non altro mentalmente da da questa situazione di isolamento e che cosa che ti manca di più del teatro dal vivo se dovessi scegliere qualcosa guarda se ho fatto se abbiamo fatto che abbiamo sviluppato quella quel video con enrico è proprio perché vabbè parlo per me ma penso di poterlo estendere anche a lui la cosa che mi manca di più è sono gli attori questo tramite umano fatto di carne che ti riporta un testo una storia che ti fa vivere l'emozione guardare il viso di un attore sul palco e pensare anche a tutti i processi metalli a cui sta sta passando attraverso e si l'attore si è la cosa che mi manca di più del teatro questo questo rapporto di vicinanza con appunto con l'interprete e se appunto ti dovessi chiedere che cosa pensi del teatro digitale o in video e che cosa ti manca del teatro dal vivo cosa mi diresti ecco questa questa è una domandona allora guarda brevemente io io penso che il teatro sia tale come luogo di incontro fisico e quindi di avvenimento di qualcosa di una performance di uno spettacolo in un dato luogo in condivisione con altre persone l'online credo che sia una nuova un nuovo orizzonte ecco e credo che sia possa essere un contenitore di memorie in questo senso e nel momento in cui dovessero nascere dei progetti teatrali credo che dovrebbero adattarsi al linguaggio online nel momento in cui nascono proprio per un linguaggio online ecco mi vuoi raccontare anche qualche altro video racconto che ti è rimasto più impresso guarda quello che è uscito oggi quello di emilia cantieri è molto bello perché anche lei come me che sono in valle d'aosta lei invece è a verona c'è un fortissimo rapporto con la natura nel suo video ed è un po' clandestino c'è un po questo questo desiderio di fuga che lei ha che percorre dei sentieri passa vicino all'acqua questo devo dire mi ha mi ha veramente colpito molto il progetto si chiama 11 evasioni possibili sono le vostre personalissime evasioni sì diciamo la cosa bella di questo di questo progetto che abbiamo fatto insieme a riccardo frati è stato proprio il fatto che lui ci ha lasciato la massima libertà cioè quale qual è il qual è il nostro modo unico personale di interpretare il momento storico che stiamo vivendo e quindi sono tutti diversissimi no perché poi ognuno ha messo dentro un pezzo di sé con anche con tanta generosità e però sono sono tutti estremamente paradossalmente legati no perché siamo sempre noi e il tema lo stesso va bene per concludere questa breve intervista ti chiedo se ti va di lasciare un pensiero o un messaggio ai tuoi colleghi compagni lavoratori nel mondo del teatro visto che il tema è questo come ti dicevo io sono approdato al teatro di recente vengo dal mondo più cinematografico del video e quindi sto sto ancora facendo questa transizione che una transizione emozionale il cinema a mio avviso vive molto più di tecnica e l'emozione la vedi alla fine di un processo il teatro vive molto di emozione anche durante tutti i processi e il messaggio che mi sento di mandare quello di non disperare di conservare queste emozioni perché ci saranno ci saranno presto nuovi momenti per cui in cui farle riemergere in cui esprimerle e quindi tenerle come un tesoretto da tenersi lì e poi da riportarcele quando quando potremo di nuovo incontrarci con con le modalità cui eravamo abituati prima va bene grazie mille lillo ti ringrazio grazie a te bene senti per concludere questa brevissima intervista ti chiedo se vuoi lasciare o lanciare un messaggio un pensiero ai tuoi colleghi e compagni di teatro mannaggia forse forse direi questo non arrendiamoci nel senso nonostante il periodo di stop che non sia una sentenza di morte ma che sia un un punto di messa a terra in cui ripensarsi per poi ricominciare questo grazie mille verdiana grazie grazie a te volevo chiederti se volessi lasciare un messaggio un pensiero ai tuoi colleghi compagni teatranti che in questo momento magari non se la passano tanto bene ecco beh sono sono vicina c'è un è un momento tosto difficile per tutti perché affiorano difficoltà che già c'erano e quindi è un momento delicato e siamo uniti ecco siamo molto uniti va bene grazie sonia grazie grazie a te